Noi chiediamo al governo un atto di solidarietà dovuto a una regione che da tanto come il Veneto che è stata colpita da un grave evento meteorologico assolutamente straordinario e devo dire con un grande dispiacere sottacciuto e trascurato dai media nazionali ed è rubricato quasi a un forte temporale. Invece è stata una vera e propria calamità naturale che ha creato danni per oltre 100 milioni di euro ad abitazioni, addirittura una villa veneta fra le 20 colpite e seriamente danneggiate una villa veneta, la villa fini di dolo completamente rasa al suolo, una cosa impressionante danni all'eredo urbano, danni gravissimi all'agricoltura soprattutto nel veneziano insomma una regione messa a dura prova e i segnali da parte del governo sono stati assolutamente insufficienti sono stati dati 2 milioni, quasi un'elemosina che assolutamente non risolve il problema abbiamo bisogno di rimettere a posto le strade, gli eredi urbani, mettere in sicurezza gli alberi che sono stati gravemente danneggiati e che rischiano di cadere e dare un supporto anche a quelle aziende che hanno avuto i tetti scoperchiati, che sono state messe nell'impossibilità di continuare la loro opera la loro attività in un periodo che sappiamo di forte crisi e di difficoltà economiche